Ciao, sono Ineletta da Mosca. Io Mauro Bulma e noi siamo i vettori di Sulla Collina. Ecco qui Sulla Collina. Saremo sopra. Per chiedere, auguri ai 15 anni alla Tonuea. Auguri Tonuea per i tuoi quindici anni. Auguri! Senti ma, secondo te cosa c'è per questo cane? Cosa ha a che fare con la nostra storia? Non ho più pari di idea, ma scopriranno chi guarderà la storia di Sulla Collina. Ok, allora questo è un quiz tra i nostri vettori o futuri vettori. Che cosa c'è per il cane con Sulla Collina? Lo scopriranno solo io e allora. Auguri Tonuea! Auguri Tonuea!